Musica Regalo sotto l'albero per i precari accesi, il sindaco avvia le procedure di stabilizzazione dei 271 dipendenti comunali. Musica Predisposto dalla protezione civile di Acireale un progetto per la messa in sicurezza di Casa Vigo, l'intervento in danno della proprietà. Musica Calcio, tracollo inatteso in Calabria per l'Acireale, pesante 5 a 0 finale. Musica Ben trovati, buon inizio di settimana con il nostro Tg Reporter, tra gli altri argomenti del nostro giornale ci sarà spazio per la cronaca, agente di commercio in carcere ad Aci Sant'Antonio per bancarotta fraudolenta. Aci Catena invece ha finalmente la sua consulta giovanile, questa mattina al Palazzo di Città ha presentato il regolamento che a breve sarà esitato ed esaminato in consiglio comunale. Sempre ad Aci Catena, intanto i consiglieri d'opposizione presentano una mozione che sarà discussa nelle prossime sedute di consiglio sull'archivio storico da dieci anni fuori Sicilia, deve ritornare a come dire in patria. Questo è quanto sostengono i consiglieri d'opposizione, ma parleremo anche d'altro, della giornata ecologica e dei risvolti solidali che ha avuto ieri la giornata al Tuparello di Acireale. Andiamo a cominciare, lo facciamo con l'attenzione concentrata sui precari, un corpo comunale assai sostanzioso ad Acireale, sugli oltre 500 dipendenti comunali, 271 infatti sono precari. Per loro avviate le procedure di stabilizzazione che, se tutto va come dovrebbe, dovrebbero completarsi nell'arco di un triennio. Vediamo. Regalo sotto l'albero per i precari di Acireale. Si avviano anche al Comune infatti le procedure di stabilizzazione dei 271 dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale. Il sindaco Roberto Barbagallo ha emanato una direttiva politico-amministrativa all'indirizzo del settore responsabile del personale, finalizzata all'avvio delle procedure atte a superare il precariato del personale comunale, proveniente dal bacino di fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili. E' un momento importante per tutti i precari degli enti locali, afferma il primo cittadino acese. Già entro la fine dell'anno potremo stabilizzare i primi lavoratori, ma l'obiettivo, ci conferma, resta quello di stabilizzarli tutti nell'arco del prossimo triennio. L'obiettivo è quello di stabilizzare tutti. Chiaramente negli anni si sono succedute diverse circolari, diverse leggi e quindi noi ci atteniamo a quello che di fatto ci arriva dalla regione siciliana e dal ministero. Nelle ultime settimane è arrivata una nuova norma, la legge Madia, che ci dà la possibilità di avviare immediatamente le stabilizzazioni, non tenendo conto del 50% di assunzione dall'esterno. E quindi ho demandato all'ufficio personale, al segretario, che è appunto il capo del personale, di avviare una ricognizione per attivare immediatamente la stabilizzazione. Significa che chi ha lavorato negli ultimi otto anni, per almeno tre anni, nella pubblica amministrazione, chi è arrivato dalla pubblica amministrazione attraverso un reclutamento, insomma chi è idoneo, lo sono i contrattisti, può essere stabilizzato, può essere assunto dal comune senza concorso e senza accedere, accesso dall'esterno. Quindi stiamo avviando tutte le procedure per attivare la stabilizzazione. A fine dicembre sicuramente uscirà un bando nella gazzetta ufficiale, nel sito del comune di Ecireale, a cui potranno partecipare tutti i contrattisti. E dopo un primo avvio, quindi ne stabilizzeremo circa 14-15 nel 2017, comunque con procedure relative al 2017, avvieremo una nuova riprogrammazione della dotazione organica e attiveremo la stabilizzazione programmando per il 2018, 2019 e 2020. L'obiettivo è quindi quello di chiudere finalmente questa triste pagina del precariato, credo in Sicilia, ma un po' in tutta Italia, perché la legge Madia non si riferisce solamente alla regione siciliana. E qualora la regione siciliana, così come è scritto in una norma nel 2017, continuasse ad erogare l'80%, siamo pronti a completare nel più breve tempo possibile questo iter, ripeto, che finalmente chiude una brutta storia che riguarda il precariato nelle pubbliche amministrazioni. Inizio di settimana da incubo per numerosi automobilisti, soprattutto i pendolari, che sono costretti a raggiungere Catania. Ben tre incidenti, fortunatamente senza feriti gravi, hanno creato file interminabili. Questa mattina lungo l'autostrada A18, la Catania Messina, come vedete dalle immagini. In due casi si è trattato di tamponamenti a catena, verificatisi lungo la tangenziale e sul viale mediterraneo. Nel terzo caso, proprio sull'autostrada in direzione Catania, a pochi chilometri da San Gregorio, un motociclista ha perso il controllo della propria moto ed è finito rovinosamente a terra. Alla fine si conteranno quattro feriti, ma in maniera fortunatamente lieve e tanti disagi, come vedete dalle immagini. Per gli automobilisti, per i pendolari. Agente di commercio in carcere per bancarrotta fraudolenta. I carabinieri della stazione di Tremestieri e Tenneo hanno arrestato il sant'antonese Lorenzo Coppola, 68 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cosenza. L'uomo già condannato dai giudici per bancarrotta fraudolenta, reato commesso a Cosenza, tra l'ottobre 2009 e l'aprile 2010, dovrà scontare in carcere una pena residua di tre anni e tre mesi di reclusione. Assolte le formalità di rito, Lorenzo Coppola è stato associato al carcere di Piazza Lanza a Catania. Adesso parliamo della giornata ecologica svoltasi ieri ad Accireale. Quasi 30 tonnellate di rifiuti raccolti, rifiuti ingombranti e oltre 1000 kg di RAE. Questi i dati dell'ultima giornata ecologica dell'anno. L'isola di raccolta itinerante di ingombranti e RAE è allestita ieri nel piazzale dello stadio Tupparello. Esprime soddisfazione l'assessore alle politiche ambientali Francesco Fichiera. Tantissimi accesi ricorda che sono attenti nel differenziare i rifiuti favorendo il riciclo e il riuso. Aver organizzato l'isola ecologica itinerante con cadenza mensile è servito a far diminuire i conferimenti di ingombranti nelle strade e a sopperire alla mancanza del centro di raccolta a cui comunque continuiamo a lavorare, afferma l'assessore. E adesso riflettori sulla casa natale ad Accireale del poeta Leonardo Vigo. Avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio. C'è stato predisposto dalla protezione civile un apposito progetto. Vediamo. Ci si avvia di Accireale verso la messa in sicurezza dell'edificio storico Vigo Calanna di via Marzulli con angolo via Galatea. Facendo in tal modo seguito all'iter avviato nell'agosto scorso dalla protezione civile comunale dopo un sopralluogo compiuto dai vigili del fuoco, si è arrivata adesso da parte dell'ente locale, concordando il tutto con la soprintendenza di Catania che ha la dovuta competenza, trattandosi di un immobile sotto tutela in quanto monumentale, essendo la casa natale di Leonardo Vigo Calanna, alla formulazione dell'intervento relativo appunto della messa in sicurezza per la pubblica incolumità. È emerso infatti il distacco di intoneci e porzione di cornicioni per cui i proprietari a più riprese sono stati diffidati ad eseguire le opportune opere di manutenzione, con il tutto però disatteso. L'edificio risulta inagibile con le condizioni statiche che nel tempo sono peggiorate, per cui necessitano lavori di ripristino e messi in sicurezza del cantone dello stabile e l'installazione di una tettoia parasassi per tutto il perimetro a protezione di eventuali distacchi di calcinacci. Tenuto conto così della necessità di procedere in danno alla proprietà, è stato redatto dalla Protezione Civile un progetto per un ammontare di quasi 32.000 euro, avviando così la procedura negoziata, invitando cinque ditto operanti nel settore, facendo parte dell'albo di fiducia, a formulare una manifestazione di interesse e a proporre quindi un'offerta al ribasso. In considerazione dei tempi tecnici burocratici di attuazione del procedimento, è probabile che i lavori possano svolgersi all'inizio del nuovo anno. Ci fermiamo adesso, una breve pausa pubblicitaria, tanti altri argomenti ci attendono, tra poco. I prodotti tipici siciliani e l'eccellenza piemontese di Caffarel si spostano da un'esplosione. Usano in un unico gusto che puoi provare in un posto unico. Dolcezze ed intorni, in corso Umberto 50 a Cireale. Prima di pensare ai regali di Natale, fai un salto da dolcezze ed intorni. Cioccolato, nocciolati, croccanti, caramelle, dolci, finissimi panettoni, vini, spumante, rosoli e licuori artigianali, oltre alle più importanti specialità di dolci siciliani. Dolcezze ed intorni, store Caffarel. Dal 1826, eccellenza piemontese nel cioccolato. Ad Acireale, in corso Umberto 50. Buon Natale! Il 15 dicembre, dalle ore 17, degustazione panettoni Caffarel. Dal centesimo, è tutto a 30, 50 e 75 centesimi. Il centesimo, ogni giorno bravi spagna. Formaggio duro Grandi, a 50 centesimi letto. Prosciutto cotto Galbani, fetta golosa, a 75 centesimi letto. Mozzarella Nonna Tita, da 100 grammi, a 30 centesimi. Sì, nei supermercati Il Centesimo. Per un mese trovi offerte strepitose a 30, 50 e 75 centesimi. Corri a scegliere le tue. Il centesimo, ad Acireale, in Diamandor le 24. Da Pascià, per il Natale, regali utili e di qualità. Biancheria, tende, cuscini, tovaglie, articoli per la cucina, complementi per la casa, oltre a pigiameria per tutta la famiglia, intimo, pantofole e altro ancora. Con i prezzi migliori, sempre. Pascià, tingi di rosso la tua casa. Via Dottore Oreste Shonti, 48 50 52, ultima traversa di Corso Umberto, Acireale. A Natale, regali utili e di qualità, con centinaia di articoli in promozione. Cosa mangiamo a pranzo? Un toast da Plaza Toast. E a cena? Un toast da Plaza Toast. Ottimo! Potrà sembrarvi ripetitivo, ma da Plaza Toast si è sempre felici di andarci. Perché i toast sono dei mega toast doppio gusto. Preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci. 30 scelte, tra cui lo sweet toast, il toast dolce con creme, nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro d'arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e nutrienti e stratti energetici, disintossicanti o rinfrescanti. Plaza Toast. In Piazza Garibaldi, 13 14 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345-816-2022 345-816-2022 Concessionario Michele Messina Via del Santuario 4, Acireale Telefono 328-222-4441 A Natale, Pasticceria Sciacca. Dal 1987, una tradizione che si rinnova per bontà e qualità dei prodotti lavorati artigianalmente da maestri pasticceri. La festa rendila ancora più dolce alla Pasticceria Sciacca. Gelateria, tavola calda, servizio catering per qualsiasi evento. Pasticceria Sciacca Blangolo Dolce Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 101 Dolcissimi auguri di buone feste a tutti! Aci Catena, come abbiamo detto nei titoli di apertura, ha finalmente la sua consulta giovanile, presentato il regolamento che a breve sarà sottoposto all'esame del Consiglio Comunale. Aci Catena, finalmente la sua consulta giovanile, un organo atteso da tanto tempo che impegna i giovani catenoti a relazionarsi direttamente con l'amministrazione comunale, a proporre iniziative utili e rivicinare la realtà giovanile al mondo amministrativo ed economico, nonché a tutto ciò che faccia riscoprire i valori della solidarietà e il fascino della cultura. Un organo, insomma, che nel rispetto del pluralismo delle idee si ispira ai principi di democrazia e di libertà. La consulta, infatti, esercita le proprie funzioni in piena autonomia, avvalendosi del supporto tecnico ed operativo dell'assessorato alle politiche giovanili, che si assicura che le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e degli organi interessati. La consulta giovanile si avvale delle risorse disponibili nel bilancio annuale del Comune di Aci Catena. È un vero traguardo quello che Aci Catena raggiunge oggi, come ha spiegato l'assessore alle politiche giovanili, Angelo Russo. Negli anni tante amministrazioni hanno parlato di politiche giovanili, di consulta giovanile, ma non era mai arrivato al Consiglio Comunale l'atto propedeutico a fare funzionare la consulta, che è il regolamento. Invece che l'amministrazione Oliveri l'ha messo nel programma, per una volta la politica passa dalle parole scritte nel programma del sindaco ai fatti. Nel giro di tre mesi, grazie al lavoro del consulente coordinato dall'ufficio della dottoressa Vasta, si arriva a questo strumento che è il regolamento, che adesso andrà in Consiglio Comunale, e sarà votato, speriamo in termini brevi, per dotare finalmente il Comune di Aci Catena della consulta giovanile. Stamattina la partecipazione di tanti giovani alla conferenza stampa delle varie estrazioni politiche e sociali del territorio, dimostra che era uno strumento atteso da anni, voluto dalla cittadinanza, e quindi l'amministrazione non ha fatto altro che seguire lo stimolo che veniva dalla base. Ad augurare buona fortuna e buon lavoro a questa neoconsulta, stamattina in conferenza stampa c'erano i rappresentanti di tutte le correnti politiche, tutti uniti, da destra a sinistra, per sostenere i tanti giovani che già da oggi si sono mostrati ricchi di idee e di buoni propositi. Dalle conversazioni intrattenute si evince che la realtà giovanile catenota vuole dipingere con i colori della legalità il nuovo volto di Aci Catena. È stato attenzionato il regolamento al quale la consulta dovrà attenersi, redatto da Mirko Sancrivori, che sin da subito è stato nominato dal sindaco a titolo completamente gratuito consulente alle politiche giovanili. Sono semplici, sono quattro punti che vengono spiegati nel regolamento, e sono sensibilizzare la gente, i giovani soprattutto, alle difficoltà delle persone con meno opportunità, quindi con dei problemi, raccordare il gruppo giovanile con le istituzioni politiche, quindi avvicinarli alla politica soprattutto perché in questo momento è un periodo di crisi dove i giovani si allontanano dalla politica e quindi questo dobbiamo evitarlo, e soprattutto, e quindi cosa più importante, promuovere progetti, iniziative, qualcosa comunque che possa migliorare questo Paese. Restiamo ad ACI Catena. I consiglieri d'opposizione presentano una mozione sull'archivio storico. ACI Catena rivuole il suo archivio storico. È questo il contenuto di una mozione presentata dai consiglieri di opposizione Francesco Petrelia, Giuseppe Murabito, Salvatore Finocchiaro, Angela Marano, Davide Quattrocchi e Francesco Giannetto. Da più di dieci anni, infatti, l'archivio storico si trova fuori Sicilia, a Bologna precisamente, perché qui non aveva una degna collocazione. La sfida era proprio quella di trovargliela e farlo rientrare a breve. Memorie e identità del nostro comune vanno salvaguardate, a prescindere dal colore politico, e questa frase a dare l'incipit è la mozione che vuole tutelare l'identità catenota. Per perseguire questo fine, si legge nel documento, oltre alla tutela e alla valorizzazione dei beni monumentali e ambientali presenti nel nostro territorio, quali l'area archeologica di Santa Venera al Pozzo, l'eremo di Sant'Anna, Palazzo Rigio, eccetera, bisogna con immediatezza avviare il recupero dell'archivio storico della città di ACI Catena, che comprende una consistente raccolta di documenti dell'originaria città di ACI Sant'Antonio e Filippo, altri documenti risalenti alla prima metà del 600, e che riguardano il terremoto che nel 1693 colpì la Val di Noto, nonché l'alluvione che nel 1761 colpì ACI Catena, inducendo la realizzazione della trap del torrente Lavinaio, così come ancora si vede in poche parti del suo percorso. La volontà dei consiglieri di opposizione è chiara. Con Palazzo Rigio disponibili e la sede principale del comune riaperta, il rientro in patria dell'archivio che conserva buona parte degli atti che raccontano la storia di ACI Catena non può essere più rimandato. Accanto alla richiesta arriva anche una proposta, quella di prevedere la digitalizzazione di tutti i documenti dell'archivio storico, così da renderlo accessibile a tutti e salvaguardarne l'integrità. Consiglio Comunale ad ACI Reale torna a riunirsi domani sera, è la prima di quattro sedute calendarizzate per il mese in corso. Il Consiglio infatti tornerà, dicevamo, a riunirsi domani, poi giovedì 14, martedì 19 e giovedì 21 dicembre, sempre con orario di inizio previsto in prima convocazione alle ore 19.30. Sono nove gli argomenti, tra questi si parlerà delle disposizioni relative all'attività di panificazione, argomento proposto dal consigliere Musmeci, ma si parlerà anche di Tari, l'approvazione del piano economico finanziario e le tariffe della tassa sui rifiuti per l'esercizio in corso il 2017. Nove argomenti, quattro sedute, domani si comincia. Questo pomeriggio invece alle 18 nella sala multimediale dell'Istituto San Luigi ad ACI Reale, in piazza Nonsignor Pennisi Alessi, ma con ingresso da Vico Rote, presentazione del POF, il piano d'offerta formativa per gli studenti delle classi quinte e primarie dell'Istituto Comprensivo gestito dai fratelli delle scuole cristiane. Sarà presente il coordinatore didattico, la professoressa Antonella Il Grande. Open day musicale invece, questa sera alle 17, a cura degli studenti di scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Paolo Vasta, sala teatro della scuola, appuntamento a partire dalle ore 17, dunque, con l'open day musicale. A riscosso, unanimi consensi, invece, la colletta alimentare è promossa ieri dai giovani devoti di San Sebastiano, Comitato Piazza Porta Cusmano, un momento di solidarietà e beneficenza con raccolta di beni di prima necessità, ma non solo, sono stati raccolti anche giocattoli per i bambini. Erano presenti e partecipando, dunque, e contribuendo a questa iniziativa, anche il gruppo Passione e Mentalità della curva Jacopo Polimeni e i ragazzi dei Fercoli della Devozione, raccolti, dicevamo, beni alimentari e giocattoli per i bambini. Maggiori dettagli per ragione di spazio nel Tg di domani. E sempre domani, a partire dalle 9.30, nell'ambito delle iniziative organizzate con la Chiesa Santa Maria della Neve della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania, due gruppi scolastici della Galileo Galilei andranno in visita al presepe settecentesco. Lo storico dell'arte Teresa Di Blasi illustrerà agli studenti le caratteristiche del presepe e la valenza artistica e simbolica. giorno 19 poi toccherà agli studenti dell'Istituto Superiore Accese Majorana Meucci. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, nella terza parte lo sport. Ci sono regali che creano un legame speciale. Realizza regali unici e originali con le tue immagini più belle e donerai a chi ha un'emozione davvero insignificabile. Porta le tue foto in negozio, al resto qui siamo noi. Tomarchi Ottica e Fotografia ad Acireale in Corso Italia 18A e B Fotosì Stampa le tue emozioni Unicar E perché? Perché un'esposizione grande così è Unicar Perché trovi auto e furgoni nuovi e usati a chilometri zero, aziendali, con tantissime occasioni Perché ti fanno il finanziamento anche senza busta paga e ti consegnano l'auto revisionata e garantita per 36 mesi Perché anche se l'auto non la compri, te la danno lo stesso Te la regalano? No, te la noleggiano a breve e lungo termine a prezzi economicissimi Unicar di Francesco Carcione Mega esposizione multi brand con oltre 300 auto e furgoni Ad Aci Sant'Antonio in via Giacomo Matteotti 107-111 A 5 minuti dal casello autostradale di Acireale Per info 095 22 65 747 Il piacere di guidare Alla Euroform, percorsi formativi di qualificazione, sta per iniziare un corso OSA, operatore socioassistenziale, con qualifica professionale valida in tutto il territorio europeo. Il corso tra aula e stage è di 840 ore e possono parteciparvi persone occupate in cerca di prima occupazione o disoccupati. L'OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore sociale e sanitario. Il corso si svolgerà ad Acireale e prevede un pagamento dilazionato. Per informazioni 095 80 00 26 o 340 31 55 483. È tempo di novità! Ad Aci Catena per i più piccoli ha aperto OVS Kids dove c'è un mondo coloratissimo di abbigliamento con le grandi promozioni dal corredo 00 ai 14 anni, tutto ciò che cerchi. OVS Kids, nuova apertura ad Aci Catena in via Vittorio Emanuele 1416. OVS Kids, mi piace! È arrivata, è arrivata! L'anzolana è già lavata! Bella! Fresca? Bella fresca! E non sana, da ridare! Sulla riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca! L'insalata siciliana a chilometri zero. Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per lingua glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive ravioli di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli perfumatori. Se passate per lingua grossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi! Facciamolo per noi. Donare il sangue è un bisogno di cui possiamo avere bisogno. Il gruppo Donatori Sangue a Cireale Fratres vi invita alla donazione. Mercoledì 20 dicembre presso la sede di Via Paolo Vasta 180 a Cireale dalle 8 alle 12. Se hai un peso superiore a 50 kg, più di 18 anni e meno di 60, diventa anche tu donatore. Salva una vita. Basta essere a digiuno da almeno 8 ore e avere con te la tessera sanitaria o codice fiscale. Per info 095 763 2730. Grazie Fratres. Donare è una scelta di cuore. Parliamo di calcio in apertura di terza parte del nostro TG Reporter. Dicevamo del tracollo inaspettato in Calabria per la Cireale. Suonante e sconfitta. Vediamo. Prima o poi sarebbe dovuta arrivare, ma nessuno si immaginava di queste dimensioni. Se è vero che ogni vittoria ti avvicina sempre di più alla sconfitta, più che un KO, quello di Iria a Cittanova per la Cireale è stato uno scontro frontale con un tir 5-0 il finale. A pesare per i Granata le numerose assenze che costringono mister Infantino a portare in Calabria solamente 16 giocatori, tra i quali non figurano lo squalificato Manes e gli infortunati Aloia e Shannamè. E poteva anche andare peggio e Granata salvati più e più volte dal loro portiere Barbieri. Bravo in avvio, prima su Ortolini e poi su Napolitano. Al quindicesimo è ancora Ortolini a cestinare nuovamente il pallone dell'1-0 sulla sponda aerea di Gonzales. Pochi minuti ed ancora Napolitano crea pericoli, ma la sua conclusione dalla distanza è bloccata. La Cireale scende in campo praticamente al 32esimo e per poco scapellato non realizza il gollonzo della domenica, ma sono ancora della cittanovese le migliori pallegol. Su corner ci prova Cianci, distinto Barbieri tiene lo 0-0, poi l'estremo difensore accese è bravo e reattivo a distendersi sul tiro dalla distanza di Ortolini. È un assedio dei calabresi, rotto soltanto dalla timida conclusione di Panniteri, neutralizzata da Daguì, bravo a tenere il pallone anche sulla botta di Palermo al 37esimo. Il primo tempo, nonostante le mille difficoltà per la Cireale, sembra andare in porto, ma al 47esimo sugli sviluppi di corner, stavolta l'inzuccata di Cianci è vincente per l'1-0 cittanovese. A Cireale sotto e sottotono, ma Cireale è anche sfortunato all'inizio di presa quando il mio arrivato Alvarez, ufficializzato proprio alla vigilia del match, sfonda l'incrocio e poi sulla ribattuta Barraco non trova la porta. È un fuoco di paglia però perché la domenica è nera per i Granata, nonostante Barabieri continui a tenere a galle suoi ancora sulla botta di Napolitano. Al settimo infatti Condomitti a tu per tu con il portiere accese non sbaglia e al quindicesimo Ortolini chiude la partita realizzando di testa il 3-0. La Cireale tira i remi in barca e Maccioni non riesce a svegliare i suoi compagni e così la cittanovese si diverte. Al ventiquattresimo Gonzales dopo una serie di rimpalli cala il poker, Bonadio poi al trentacinquesimo esagera anche se gli accesi ormai con la testa sono già a casa. Quinta sconfitta stagionale per i Granata, adesso terzi in classifica e con un morale da risollevare al più presto. Parola adesso ai due allenatori, Piero Infantino per la Cireale e Domenico Zito per i locali. Mi assumo le responsabilità perché credo che la squadra sotto l'aspetto caratteriale ha mancato in qualcosina, sicuramente sotto l'aspetto del gioco è una squadra che ricerca sempre la palla a terra, i fraseggi, credo che questa l'avete visto, anche se abbiamo sbagliato tantissimo e loro hanno costruito la sua gara, credo che su passaggi errati o su disimpegni sbagliati, loro sono stati molto bravi a ripartire e a creare tante occasioni ma sempre sui nostri errori. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, però questa sconfitta non deve annullare i tre mesi di grande calcio che hanno fatto, di grandi sacrifici che hanno fatto questi ragazzi. Ad oggi siamo arrivati un po' sotto tono, sotto l'aspetto fisico perché credo che questi ragazzi stanno facendo grandi sacrifici e sono stati sempre questi pochi giocatori a disputare le ultime gare. La Gireale a mio avviso nel primo tempo è stata la squadra che mi ha più impressionato qui al Monreale Proto. Malgrado noi avessimo avuto un approccio iniziale positivo, ma loro in particolar modo dal punto di vista tecnico hanno sbagliato poco, riuscendo ad uscire spesso dal nostro pressing con dei fraseggi dove si vede che c'è un lavoro dietro, interpreti singoli ottimi, Cocimano, Barraco in particolare, difensori che difficilmente sprecavano una palla. Il primo tempo mi hanno davvero impressionato. Noi siamo riusciti a passare in vantaggio su una situazione di palla inattiva, ma al grado, vi ripeto, non potevo giudicare il primo tempo in maniera negativa il nostro. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto, credo, 40 minuti di calcio di gran livello. E adesso vediamo i gol della giornata, quindi i riflettori di... E sono otto le meraviglie consecutive di un Troina che sa solamente vincere. È spugnato ieri anche il campo del Portici grazie a questo gol dell'argentino Ottvale alla mezz'ora della ripresa che vale ancora il primato e 10 punti di vantaggio sul secondo posto. Secondo posto occupato adesso dalla Nocerina che supera di misura il Roccella. Gli ospiti sbagliano un rigore con Failla nel primo tempo e poi a 6 dalla fine subiscono il gol che decide il match ad opera del difensore Matino che sfrutta la papera del portiere Scuffia e da pochi passi spinge in rete. A Ciriale terzo in classifica anche perché sia Egeo e Virtus che Vibonese non affondano la vittoria. I siciliani fanno 0-0 in casa dell'Ebolitana portando a casa un buon punto in ottica playoff. I calabresi invece hanno fatto 1-1 in casa dell'Isola Caporezzuto. Padroni di casa avanti a sorpresa al nono con Pellizzi e la deviazione decisiva di un difensore che beffa Brugnoni. Il pare ospite arriva alla mezz'ora del primo tempo con Bubas infallibile dal dischetto. 2-0 all'Ercolanese balzo decisivo verso i playoff per la San Cataldese mentre Gela e Gelbison si spartiscono un punto pareggiando 1-1. A passare per i primi sono i campani con l'ex Uliano al 24esimo. Il pare siciliano arriva alla mezz'ora della ripresa con il migliore in campo Brugaletta che di testa svetta più in alto di tutti. Rimontato e beffato nel recupero poi il palazzolo a palmi. Giorlo Verdi avanti al ventesimo con l'attaccante Furnò dopo la papera colossale di Capone ma il pare della Palmese Fulminio due minuti dopo grazie al gol di Vitale. Come detto poi la beffa per il palazzolo arriva al 93esimo quando Monticelli viene steso in aria ingenuamente da un difensore e Gagliardi dal dischetto non ripete il bis del primo tempo quando si era fatto ipnotizzare dagli 11 metri da Ferla. In coda infine importantissimo successo in rimonte al fotofinish per il Messina Paceco e salvezza diretta adesso distante un solo punto per i peloritani. Paceco ultimo insieme all'isola Caporizzuto palazzolo a più due dalla zona rossa dei play-out. Gela prossimo avversario della Cireale stabile a metà classifica. Uno sguardo anche agli altri campionati dilettantistici. In eccellenza frena il Biancavilla fermato sullo 0-0 in casa dallo Scordia e perde la vetta in favore del città di Messina Corsaro in casa Sant'Agata. Colpo esterno del genre di Peppe Mascara a Caltagirone e play-off adesso distante un solo punto mentre in coda finisce 0-0 lo scontro salvezza tra Reallaci e Adrano al termine di un match dove ha prevalso la paura di perdere piuttosto che la voglia di vincere. I Realini così non abbandonano l'ultimo posto in classifica seppur restino a meno uno dai play-out. In promozione anche nel girone C c'è una nuova capolista dopo la quattordicesima giornata. È il terme vigliatore che ha battuto il Tirrenia volando in testa complice anche il rinvio di Messana Ionica. Frena il Via Grande che acciuffa per ben due volte e in nove uomini lacci Sant'Antonio nel caldo derby di giornata mentre crolla il Trecastagni in casa dell'atletico Fiumefreddo con i giallo-blu che scivolano così in terz'ultima posizione in piena zona play-out. Nel girone E di prima categoria finisce in parità lo scontro al vertice tra le due a capolista. AC San Filippo-Taormina con i catenoti che acciuffano il pareggio con Anastasi nei minuti di recupero. Dietro si fa sotto il Piedimonte che regola 3-0 l'AC Bonaccorsi portandosi a meno 3 dal duo di Vetta. Esploa esterno anche dell'AC Catena a Pompei e quarto posto conservato mentre il Pisano raggiunge il 2-2 nel finale in casa della Russo Calcio e agguanta al quinto posto il Santa Domenica Vittoria battuto nel frattempo a Valdinisi. Nel girone E di seconda categoria infine 0-0 nel big match di giornata tra Villaggio Sant'Agata e Catania FC con i primi che restano in testa alla classifica adesso con un solo punto di vantaggio sul Calcio Giarre che di misura ha regolato l'atletico Mascaluccia. Si fa sotto in chiave play-off il Pedara che ha superato il Calzel di Udica torna sconfitto da Troine il Calcio Lavinaio che naviga a metà classifica. KO per Nicolosi, Riposto e Zafferana. E adesso uno sguardo anche alle altre discipline sportive. Ritorno al Palavolcan fortunato per il basket a Cireale. Prima gioia stagionale nella Palavolo maschile per l'Aquilia a Cireale. Nel Calcio a 5 invece, luci ed ombre. Vediamo. Calcio a 5, pallavolo e basket. A Cireale sorride nelle altre discipline sportive anche se gli unici a non farlo sono i ragazzi della garitta Cireale tornati sconfitti 6-1 sabato dalla proibitiva trasferta in casa dell'Arcobaleno Ispica, capolista indiscussa del torneo di serie C1. Per gli accesi una sconfitta dura e dolorosa perché costa il quinto posto in classifica, l'ultimo disponibile per i play-off, scippato dalla Camarina Corsaro in casa della Madonnina. Ma ci sarà tempo per rifarsi già sabato prossimo quando anche Granata torneranno al Palavolcan per ospitare il Meriven Calcio a 5. Sabato intenso e felice invece per i cugini della Stella Rossa Santa Tecla impegnati nel campionato di serie C2. Gli accesi infatti hanno schiantato 9 a 5 i siracusani dell'Ellenica portandosi in classifica a meno 3 dalla zona play-off e soprattutto allontanandosi sensibilmente dai bassi fondi della graduatoria. Stella Rossa che torna a vincere così a poco meno di un mese dall'ultimo successo lo scorso 18 novembre in casa della Vittoria. Prima gioia di stagione invece nella pallavolo maschile di serie C per la Quilia Cireale che sabato ha fatto suo lo scontro diretto con l'atletico Volley Gupe abbandonando l'ultimo posto in classifica. 3 a 1 il finale in favore degli accesi partiti male nel primo set perso 25 a 20. Poi però la grande reazione dei ragazzi del presidente Raneri che hanno vinto agevolmente secondo e terzo gioco 17-25 e 14-25 parziali sudando poi punto a punto nell'ultimo set terminato 26-28 per la Quilia. La Cireale così meritatamente ha fatto un suo match disputato su un campo difficile dall'esito per nulla scontato e i progressi dimostrati dalla squadra nelle ultime settimane lasciano ben sperare per il proseguo di un campionato assolutamente aperto. Ritorno al Palavolcan fortunato infine per il basket a Cireale che ieri ha steso anche i rivali dell'Adrano confermando il secondo posto in classifica e il campionato sopra le righe che sta disputando la compagine del presidente Panebianco. 88-69 risultato finale in favore di Cerame e Compagni grazie ai 23 punti di Patanè miglior marcatore di giornata seguito dai 21 punti del lituano Budris e dai 20 di Panebianco. Granata dunque sempre secondi in graduatori alle spalle dell'amatori. Era l'ultima gara del 2017 per la Cireale che nel prossimo weekend osserverà il suo turno di riposo e che tornerà in campo a Comiso il 7 gennaio del nuovo anno. Ci fermiamo qui, abbiamo concluso, andiamo a sentire insieme le previsioni meteo per domani. Cielo sereno con temperature stazionarie comprese tra 11 e 20 gradi, 20 moderati, mare mosso. E' tutto per oggi, grazie per essere stati con noi. Tg Reporter vi dà appuntamento a domani alle 13 e 40. Arrivederci. A presto.